ciao ragazzi sicuramente mi avrete già risentito in qualche altro tutorial misto in questo canale di tutto di più da simulatori di guida a rom cellulare e via dicendo bene oggi vi farò vedere come io utilizzo simplify 3d per fare delle stampe in multicolore premesso che io ho una r2 evo di nicola p equipaggiata con firmware marlin kimbra versione 4.1.2 e premesso anche che io sono autodidatta non ho fatto alcun corso per imparare a utilizzare questo software l'ho semplicemente imparato a utilizzare guardando a destra manca e quindi per assurdo in questo tutorial potrei dirvi anche un'infinita serie di castroneria ciò non toglie che comunque sia io riesco a utilizzare con soddisfazione sia il software che la mia stampante r2 evo e quindi probabilmente tanto fuori dal seminato non dovrei andarci non solo nella descrizione di questo video troverete un allegato formato zip dove praticamente io condividerò i miei quattro profili partiamo proprio da questi profili come vedete io ho già precaricato quattro processi solitamente io lavoro con quattro processi di cui uno si chiama t0 1 t1 poi dgt0 e tgt1 i due profili t0 e t1 io li uso per stampare solo con il t0 oppure per stampare solo con il t1 dove presumo che tutti quelli che stanno guardando questo video sapranno perfettamente che t0 è l'estrusore t0 e il t1 è l'estrusore t1 ok e questi due profili invece sono quelli che io utilizzo quando devo fare una stampa multicolore differiscono questi profili nel fatto che hanno un tool change script quindi uno script per le istruzioni del cambio di filo mentre gli altri profili non ce l'hanno questi questi set di istruzioni praticamente prevedono che venga ritratto il vecchio filo e venga rimesso il nuovo filo per assurdo potremmo stampare anche solo con il t0 e anche solo con il t1 il problema diciamo è che lui inizio stampa tirerà indietro il filo e poi lo metterà dentro e quindi per evitare questa perdita di tempo io ho fatto due fili due profili senza quel quel set di istruzioni detto questo una cosa importantissima stampatevela bene in testa questo probabilmente è un difetto un errore che che probabilmente ancora non sono riuscito a identificare correggere ma ad ogni modo con i miei profili se usate i miei profili in ogni caso in tutte le stampe multicolore sia che inizi il t0 sia che inizi a stampare il t1 ci dovrà essere sempre caricato il filo nell'estrusore t0 ok quindi al noso ci dovrà essere il filo del t0 poi se la stampa effettivamente dovrà iniziare con il t1 non ci saranno problemi automaticamente simplify scriverà nel c code che deve richiamare indietro tutto il t0 e caricare il t1 mi raccomando altra cosa io qui ho un flusso canalizzatore a due vie e il mio set di istruzioni prevede una un richiamo quindi una retrazione di del filo di 10 cm chiaramente questo parametro qua che io ho fatto in due step praticamente primo step è questo appena arriva il momento del cambio filo lui quando è ancora sul pezzo richiama immediatamente 10 mm di filo poi a volte la usa a volte non la uso faccio anche alzare la z di 5 mm per evitare che mi faccia delle righe sul pezzo ma secondo il tipo di stampa devo fare lo abilito non abilito questo parametro e poi dopo vado a retrarre gli altri 90 mm quindi retraggo 100 mm in totale di filo poi dopo per caricarlo praticamente ne carico ben di più di 10 cm semplicemente perché ovviamente mi preme pulire bene il nozzle evitare che ci possano essere nei primi millimetri di stampa col nuovo colore dei rimasugli del vecchio quindi questa parte qua volendo ognuno se la può ottimizzare come meglio crede chiaramente fatevi un po una culturetta del g code prima di andare a metterci le mani l'altra cosa importante visto ci siamo ve la dico quando finisco la stampa io la mando alla fine della y così mi ritrovo tutto a carriera davanti e mando a casa l'asse x se voi avete una stampante che non ha un piano lungo 300 questo parametro cambiatelo perché probabilmente se lo avete protetto via firmware ma se così non fosse andate a fine corsa con l'asse y e quindi la vostra macchina non vi ringrazierà in nessun modo il primo esempio molto semplicemente riguarda una stampa di due parti che stanno l'una incastrata sull'altra ad esempio una scritta per incisione in una scatoletta oppure un pin di un pulsante roba del genere comunque passiamo a fatti importo l'esempio l'esempio che ho qui sotto mano in questo caso siccome sono oggetti piccoli lui mi dice che non riesce a riconoscere il formato io gli dico no 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 e lui ma le importo esattamente come sono senza andare a ridimensionare perfetto eccoli qua in teoria questo pezzettino che vedete sta qua dentro ok e io lo voglio fare di due colori diversi queste due parti quindi la prima cosa che faccio è andare a selezionare due oggetti tenendo premuto il tasto control dopo che vado su edit aline select model origins in questo modo praticamente lui mi va a comporre l'assieme delle due parti che poi potranno essere tre quattro cinque tutte quelle che volete voi una volta capito come funziona vi renderete conto che è facilissimo chiaramente anche dal disegno dovrà essere un assieme formato in questo modo perché chiaramente se fate il disegno e mettete le due parti distanti l'una dall'altra nel momento in cui andate a fare la line potrebbe per assurdo non comporsi l'assieme che vi aspettate quindi è importante questo fatta questa parte io solitamente vado anche a raggruppare gli oggetti riselezionandoli e premendo group selection perché così ogni movimentazione che faccio la faccio per tutto l'assieme quindi premo control l vado a selezionare la faccia che deve andare sul piano di stampa questo caso io lo stamperei così e poi praticamente me la vado a muovere dove meglio credo ok e qua praticamente ecco ecco il mio oggetto che andrò a stampare a questo punto quindi assumiamo di voler fare il componente fire con il t0 il componente pin con il componente con il processo t1 cosa faccio clicco su sul processo collegato al profilo di ct0 e poi vado su select models mi fa vedere selezionati già di default entrambi i componenti io li dico non seleziono nulla e poi seleziono il fire e a questo punto li do ok senza fare altro ovviamente poi tutti i parametri di retrazione scheme brim se volete usare il raft i supporti le temperature il raffreddamento le velocità tutto quello che volete voi poi dopo ve lo dovete personalizzare gioco forza li do ok a questo punto faccio lo stesso lo stesso con il t1 ok e su select models rideseleziono tutto e poi selezionerò solamente il pin do ok anche qui sistemerò tutto quello che potete sistemare e a questo punto sono pronto per lanciare la stampa prepara to print lo mi farà vedere tutti i miei quattro processi ma ovviamente a me interessano solo due quindi deseleziono tutto e poi seleziono il t0 e il t1 ed eccoci qua praticamente come vedete fino ad un certo punto lui userà solo un estrusore e poi praticamente quando inizia quel pin che è incastrato dentro a questo pulsante ogni due layer farà il cambio di colore vedete no ogni due layer dovrebbe fare ogni layer boh insomma questo ci pensa lui a farlo ed è molto preciso e qui praticamente subentra un po quel discorso che vi facevo prima di alzare o meno l'asse z di 5 per fare diciamo una migliore pulizia di stampa l'unico difetto che ha quel parametro ve lo faccio vedere subito se io praticamente lo decommento e li do prepare to print select none ecco vedete questo è il difetto che ha mi fa questo preview di stampa che non sta nel cielo e in terra ma in realtà se stampate lo stampa correttamente però mi rendo conto che visivamente è veramente molto molto brutto da vedersi e quindi io quando caricherò i profili in modo che ognuno di voi possa scaricarseli ve lo troverete commentato così non ci saranno problemi al riguardo ok passiamo adesso all'ultimo esempio il secondo ipotizziamo cioè di avere una bella scatoletta come questa anche in questo caso contro l la putto giù ok in questo modo qua e praticamente vado a vedere un come questa scatoletta sono sull'asse z con 24 mm e quindi facciamo finta di volerla fare tre strati di colori primo strato con un con il t1 secondo stato con il t0 e il terzo stato di nuovo il terzo strato di nuovo con il t1 quindi praticamente essendo 24 diviso 3 8 mm per ogni strato quindi cosa faccio vado nel t1 che sarà il primo processo che stamperà il tutto e gli dirò che deve iniziare a stampare a 0 e deve fermarsi a 8 mm quindi lui mi utilizzerà questo processo per stampare da 0 a 8 quando fate questo tipo di modifica in questo tipo di stampa non fate mai l'update mi raccomando tanto le informazioni di quel profilo le memorizza all'interno del processo quindi a questo punto prenderò il mio t0 e gli dirò che dovrà iniziare a stampare a 8 dove questo numero di inizio è esattamente lo stesso numero di fine del processo precedente ok questo è importantissimo anche qui gli do ok a questo punto mi manca un altro processo che io andrò ad aggiungere collegato al t1 intanto mi chiede se voglio salvare il precedente di 0 dico no dove praticamente andrò a fare l'ultima parte quindi da 16 a 24 mm ok quindi inizio con il t1 ora qua non sono in ordine ma comunque in quel modo inizio con il t1 da 0 a 8 8 e 16 con il t0 e 16 e 24 con l'altro t1 anche qui vado a stampare deseleziono tutto ma in questo caso selezionerò tre processi ok e gli do ok gli do ok e praticamente lo vedete anche visivamente inizia a stampare con un tool arriva a 8 mm fa il cambio colore e viene a bordo vedete ricomincia a stampare fa altri 8 mm poi torna di nuovo a bordo e praticamente poi finisce la stampa va fino a 24 e poi torna va a fine piano e torna vedete va a fine piano e torna a home e qui mi raccomando attenti perché se non modificare il codice di fine stampa poi dopo potreste fare dei danni su usate ai miei profili detto questo non serve che vi faccia vedere altro che perché non c'è altro da vedere è semplicissimo una volta capito come funziona ribadisco che non sono un esperto di simplify io ho imparato ad usarlo così magari non è il modo corretto però mi stampa e se domani imparerò un sistema migliore sarò ben lieto di iniziare a utilizzarlo ciao a tutti ciao